E anche classificare appropriamente gli interventi di architettura o di progettazione anche di interni, di design legata al mondo dell'archeologia partono certamente dal concetto di verità. Il concetto di verità ha un senso soprattutto se riferito al concetto di autenticità, che non è considerabile come una cosa così certa e scontata. Anzi, in realtà la questione è un pochino più complessa e anche un po' dibattuta, perché c'è un diverso senso della verità, un diverso senso dell'autenticità che per esempio abbiamo noi rispetto agli archeologi. Questo lo vedremo. Poi affronteremo il tema a partire da alcuni paradigmi, cioè da alcune architetture che consideriamo di riferimento per tutta la storia del progetto per l'archeologia, indipendentemente dagli esiti, indipendentemente dai progettisti, indipendentemente dalle scuole di pensiero. L'altro tema che dobbiamo considerare è fondamentalmente un tema che nasce nel Novecento, in particolare dopo le carte di Atene e che ha a che fare con il concetto di reversibilità. Il concetto di reversibilità è in realtà un concetto di progettazione tecnologica, perché naturalmente questo ha una ricaduta anche dal punto di vista figurativo, se si intende con ciò un tipo di progettazione per cui si vuole esibire una tecnologia che si confronta con le rovine. Questo allora diventa anche un aspetto figurativo, ma in realtà la questione della reversibilità è in fondo legata all'essere un po' una parolina magica, quella che comunque bisogna sempre usare quando ci si trova in questi contesti e si dialoga con gli enti che sono preposti alla tutela e che rilasciano i pareri. Positivi, diciamo, quelli che hanno a che fare poi con la realizzazione di un intervento. L'altro tema è quello della struttura indipendente, che è un po' per certi versi figlio della reversibilità, nel senso che se la reversibilità consente a un manufatto in linea teorica di essere smontato e smaltito, riportando lo status quo ante alla situazione, diciamo così, precedente ogni forma di intervento, certamente la struttura indipendente è un qualcosa che permette di fare questa operazione con le risorse giuste, con quella qualità anche di lettura dello spazio e anche quella attenzione che serve per non andare a fondere il vecchio con il nuovo. Attenzione, questa cosa non è, diciamo così, un qualcosa che ha a che fare con una forma di dover essere. Non c'è niente di morale o immorale, è semplicemente una tecnica. E la struttura indipendente diventa, diciamo così, sottende l'idea di autonomia dell'intervento contemporaneo nuovo rispetto a quelle che sono invece gli aspetti morfologici della presistenza. Un altro tema importante che ha a che fare con il dibattito un po' almeno cinquantennale nell'intervento tra il vecchio e il nuovo è quell'aspetto di continuità o discontinuità materiale e formale che riguarda, diciamo, il nuovo intervento rispetto allo sfondo dell'archeologia. Ci sono naturalmente diverse scuole e poi cercheremo di capire in che modo agiscono queste scuole, soprattutto perché la continuità ovviamente si pone in una situazione di minore reversibilità rispetto alla discontinuità. Poi c'è un altro tema che è molto importante perché è anche molto importante che è quello della monumentalizzazione della protezione. Cioè quando si è in prossimità di scavi che hanno a che fare con delle presistenze la cui lettura necessita di una superficie di scavo molto ampia, è possibile, se si trovano reperti, se si trovano parti di pregio, che venga addirittura costruito una specie di edificio sopra le rovine. Alla fine l'ultimo punto che per noi è molto importante perché vi ricordate che il primo giorno abbiamo detto che il tema su cui noi lavoriamo è architetture d'acqua e paesaggio archeologico. Il paesaggio è anche molto importante perché molti siti sono siti che sono immersi nel verde, che sono legati al passaggio di corsi d'acqua, che hanno a che fare con una condizione paesaggistica di qualità, di livello. Però ci sono anche situazioni in cui il paesaggio è necessario per andare a dare valore all'intorno in cui le rovine si collocano. Sono sempre maggiori, sempre di più i casi di intervento paesaggistico a supporto delle aree archeologiche. e ci sono anche tutta una serie di finanziamenti molto consistenti, molto cospicui a livello ministeriale a favore della progettazione di giardini, parchi all'interno delle aree archeologiche. Andiamo avanti. Allora, concentriamoci. La prima cosa che dobbiamo dirci quando ci interessiamo al progetto in contesto archeologico è una lettura di quello che sta attorno a noi. E il tema principale è un po' sempre quel riconoscimento di quella misura, di quella quantità, che poi è la distanza che esiste tra ciò che si vede e ciò che non si vede. Dove ciò che si vede è la rovina in evidenza, quindi la sua presenza tangibile. Quello che non si vede è invece il suo stato originario che evidentemente è assente. Concentriamoci su questa figura. È evidentemente un tempio. Un tempio romano perché ha uno stilobate un po' di molto alto e ha una scalinata con due grandi murature in antis che contengono l'accesso al piano della cella dove incastonato c'è l'altare che è questo. Voi vedete la mia manina che si muove? Ragazzi? Sì, sì. Perfetto, ecco. Poi vediamo che c'è un'attrabiazione qui molto semplice e anche molto elegante, un tempio con delle belle colonne, con delle belle proporzioni. Visto di fronte è un edificio certamente maturo, elegante rispetto all'architettura imperiale, però poi questo edificio nella sua vita ha avuto delle modificazioni. Oggi non è più così preciso, limpido, pulito, compositivamente quasi ineccepibile. Oggi è questa cosa qui. Ed è interessantissimo guardare questa vista, che è una vista di piranesi, che ci mostra come dentro quel tempio sia stata coltivata, diciamo così, un'elevazione che è quella di un edificio religioso cristiano. La chiesa occupa lo spazio della cella e incredibilmente il pronao senza timpano è rimasto. È rimasto nonostante vari tentativi di, come dire, di asportazione delle colonne, e qui addirittura un tentativo di spogliazione molto drastico, cioè con il ribaltamento delle colonne, la loro caduta a terra. Poi questa cosa non si è verificata, ma un'altra cosa che ci interessa capire è che se guardate il suolo, cioè il piano dove la gente cammina, si trova circa 4-5 gradini al di sotto del cancello che immette all'interno di quella specie di nartesce, che era poi il pronao del tempio. Significa che quella è la quota d'ingresso della chiesa. Ma guardate che succede, cos'è successo poi nel tempo. Questa è una foto presa dal Palatino, allora scusate, mi sono dimenticato di dirvi che questo è il Tempio di Antonina e Faustina, che è collocato in un contesto estremamente diverso da quello che si vede nella fotografia, a margine della Sacra Via nel Foro Romano. A sinistra, là giù c'è il Campidoglio, sullo sfondo vedete la Torre delle Milizie, la foto è presa dagli orti farnesiani. Ecco, qua, se noi guardiamo bene l'edificio, vedrete che è cambiato ancora una volta il piano di accesso. Adesso non c'è più un muro che separa il pronao dalla parte pubblica, diciamo così, ma addirittura c'è un ponte che collega la porta con il piano di campagna. E adesso questa condizione permette di capire che la porta della chiesa è alla stessa quota del piano strada, come si vede nella foto in alto a destra. Se io guardo l'immagine in basso a destra, scopro una cosa, una novità. La novità è che alla fine dell'Ottocento sono cominciati i grandi scavi di sterro dell'area del Foro Romano, cioè del Foro Repubblicano. Tutti quegli edifici che vedete vengono demoliti. Ne resta solo uno, quello sulla destra, guardando il Tempio. Tutto il resto non esiste più. Non esiste più e fa parte di quell'operazione che si è svolta, diciamo, in epoca postunitaria, cioè di recupero, riconoscimento dell'area forense, di esibizione della quota archeologica che porta al sacrificio degli edifici, anche di edilizia corrente, come questi, per esempio. Vedete, come questi qui, ecco. Poi, vedete questo edificio qui, questo è questo qui, ok? Saranno tutti demoliti, non ne resterà uno, resta solo un pezzo di questo, che è un monastero, anche abbastanza importante, anche perché è costruito sulle fondazioni del Tempio della Pace. Procediamo. Oggi è così. Si vede la chiesa conservata, si vede che c'è una scalinata che è stata rifatta, perché, se noi guardiamo bene questa immagine, qui la scalinata del Tempio non è più visibile. Compare con gli scavi e ne compare una parte. Vedete, compaiono di nuovo la quota di imposta delle colonne, ma guardate dove è finita la quota di accesso della chiesa, che è questa qui, vedete? Che è poi la quota del camminamento sul suolo, diciamo così, della città. Quindi cos'è successo? È successo che noi ci siamo spostati, che il piano di campagna, diciamo così, ottocentesco, rispetto a quello originale, neroniano, antico, è un giochino di 12 metri di dislivello. Cosa è successo? Perché ci sono 12 metri? Guardate questa foto, qui si vede molto bene. Questa è la quota d'ingresso della chiesa all'inizio dell'Ottocento, che poi è questa qui, e questa qui, dove è stata fatta la foto, è la quota, diciamo, di camminamento del pubblico che si muove sulla Sacravia. E questa è la foto in cui si vede l'edificio nella sua, diciamo così, nuova configurazione all'indomani degli scavi. Vedete, questa era la quota della città precedente. Ora, vedete qui, queste sono tutte le persone che sono assiepate lì sotto e che stanno guardando il tempio. Questa è la quota, diciamo così, vista in prospettiva, dell'ingresso del tempio, più o meno questa, e questo è il dislivello di 12 metri che si è accumulato in due secoli, praticamente due secoli. Cosa c'è? Qual è la verità? Dove sta la verità? Sta in un tempio che è stato realizzato duemila anni fa e che poi a un certo punto, uscito dai circuiti dell'attività, è stato in parte sepolto e poi sostituito da un altro edificio religioso che ne ha preso il posto. Alla fine questo è un tempio pagano o una chiesa cristiana? Cioè il tempio pagano che ha vissuto probabilmente due secoli poi è stato sostituito dall'arrivo e dal nuovo paradigma cristiano e che chiaramente anche la sua funzione, prima sarà stato chiuso probabilmente fino a 300, 400, 500 d.C., poi probabilmente è stato sostituito dal punto di vista delle funzioni liturgiche, religiose, come sempre succedeva con la sostituzione dei credi religiosi che però mantenevano salde le murature del credo precedente e poi a un certo punto sta a fare qua, è una chiesa conclamata fatta da Albignola. Non è un capolavoro, abbiamo modo di vedere, però è particolarissima questa cosa perché è come se la chiesa fosse imprigionata dentro questo corpo e in qualche modo da questo corpo ha tratto non solo la sua forma ma anche quelli che sono i suoi limiti formali, un edificio che ha dovuto crescere potentemente in altezza per potersi esporre e farsi leggere come edificio cristiano. Quindi dove sta la verità? Ecco, allora noi stiamo imparando a capire che non c'è una verità, che c'è un palinsesto e questo palinsesto è fatto di stratificazioni e che ogni epoca va a disegnare sulle antichità un po' la propria immagine e certamente c'è un calcio d'inizio nell'operazione che è la costruzione all'inizio del secondo secolo, anzi a metà del secondo secolo, di questo edificio. Però poi in realtà non è stato il tempio a portare l'edificio fino ad oggi. Come dire, il carro l'ha tirato la chiesa, l'edificio cristiano. Quindi noi dobbiamo fare sempre i conti con questa realtà, che è una realtà complessa, cioè non esiste una verità, almeno questo noi architetti lo sappiamo molto bene. Per gli archeologi esiste fondamentalmente un originario che normalmente è più importante di quello che è stato fatto successivamente. Noi siamo più portati a legittimare l'intero percorso del progetto architettonico, anche quello recente. Questo è un insegnamento in fondo un po' della modernità, che forse è l'unica cosa che si è portata dietro di positivo nel suo confronto con l'antico, che è quello, diciamo così, di considerarlo nella sua interezza del percorso di avvicinamento al presente. Quali sono i paradigmi con cui noi ci confrontiamo continuamente, che ci viene difficile non considerare? Beh, guardate, non sono tanti, però sono anche un po' arcinoti. Io penso che nei corsi di restauro che voi avete affrontato negli anni della scuola, un po' le vicende di questi edifici le avete certamente toccate. Ora, il Colosseo è un caso estremamente particolare, tanto perché è il primo, e poi perché c'è stato un intervento veramente di grandi dimensioni, un'operazione non da poco. All'epoca non c'erano tutti i denari che possiamo immaginare per poter mettere mano a un progetto e a un cantiere di questo tipo. Nell'arco di 45-50 anni sono stati fatti tutta una serie di interventi del Colosseo che sono poi comunque quelli che l'hanno consegnato fino ad oggi. Sono i due interventi sugli Speroni, lo Sperone Valadie, che è questo in primo piano, lo Sperone Sterna, che è quello dall'altra parte, gli interventi di Gaspare Salvi e del Canina a risarcitura della grande apertura che il Colosseo aveva nel fianco, e quindi la rottura di continuità della sua forma ellittica. Questo è un intervento molto bello che cerca di far leggere il fatto che in quel punto il Colosseo non esibisce un prospetto, ma esibisce una sezione, e quindi l'intervento di Canina e di Salvi tende a mostrare la sezione costruttiva nel progetto di restauro. Nasce un restauro che è anche un po', come dire, narrativo. Vengono adottate delle tecniche, quasi sempre movimentando l'atterizio, che permettono di immaginare il lavoro che la muratura fa in quei punti nevralgici che non ci sono più, cercando di restituire quello che era il funzionamento, gli spessori, la consistenza materica di una cosa che non si vede perché non c'è più. L'altro esempio, sempre che ha visto una collaborazione tra l'Aladia e Stern, è la ricostruzione dell'Arco di Tito. Guardate, l'Arco di Tito è una cosa importantissima, non solo perché nel suo intradosso è scolpito un pezzo di Bibbia, che è il trionfo di Tito, il corteo di trionfo di Tito sui Giudei, dove si vede il candelabro a sette bracci che viene portato a Roma, come Pottino di Guerre. Ed è molto interessante questo progetto perché ha come obiettivo quello di restituire l'intero edificio, diciamo così, nel volume che aveva e con i profili che aveva, con la differenza, e qui per la prima volta viene utilizzata questa tecnica, di ridurre la complessità dei dettagli. Quindi scompaiono le scanalature, scompaiono alcune articolazioni e dettagli che riguardano i capitelli, che riguardano le cornici, e tuttavia la grande qualità di questo edificio ricostruito è che alla fine ha mantenuto la stessa tonalità cromatica, perché insieme al travertino, insieme al marmo, è stato usato il travertino, in modo tale da comprendere, leggere le differenze dell'edificio che è stato estratto dal palinsesto medievale e ricollocato in una condizione di percezione completa, dove però la parte originale la si vede per sfumatura differente e poi per un trattamento meno particolareggiato della parte nuova, che è tantissima, perché questo è quello che è rimasto dell'antico, vedete, tutto quello che viene tenuto dentro queste due semicolonne, sotto questa trabiazione, quindi questo arco, la parte dell'arco è quella originale, e tutta questa è quella ricostruita. Va beh, qua si vede il dettaglio di questa cosa. Ecco, un altro caso che per noi è molto importante, ma soprattutto perché c'è stata un'interpretazione abbastanza, come dire, sui generis del palinsesto, del palinsesto che caratterizza questo edificio, che è un edificio pluristratificato, quello di Castelvecchio, molti di voi che sono presenti probabilmente lo hanno visto con me in Gita, o forse l'hanno visto anche in Autonomia, però questo progetto per noi è importante perché è un caso unico, non è un caso così ripetibile, perché gli interventi all'interno di queste mura sono stati interventi che hanno completamente sconvolto il suo carattere originario. Praticamente qui di originario non c'è niente, ci sono forse solo le fondazioni, considerando che questo edificio poi in realtà, sebbene sia stato realizzato importando tutta una serie di elementi architettonici recuperati da edifici distrutti da inondazione e quindi ricollocati nella facciata, però questo è un edificio poi fondamentalmente ottocentesco, un edificio che è stato costruito nel 1801 da Napoleone, una vecchia caserma. Quindi l'operazione fatta da Scarpa in questa ala che si chiama ala napoleonica è un'operazione sconvolgente rispetto alla faccia che aveva questo edificio, che in fondo è abbastanza autonomo rispetto all'architettura militare che lo contiene. Questo edificio è stato pensato come caserma, poi negli anni 20-30 ripensato come museo e quindi nobilitato con tutta una serie di elementi architettonici recuperati, ma comunque tutti i lapidei, con una facciata tutta simmetrica, una tensione compositiva molto importante, che però trasferiva l'immagine di un edificio anche qui connotato da un paninsesto. Prima era un edificio militare di cui restano ancora alcune tracce, poi viene travestito, truccato, trasformato in un edificio museale con tutta una serie di suoi trattamenti di superficie e poi viene trasformato in museo alla maniera moderna, alla maniera post bellica, con un intervento di totale sconvolgimento di quello che c'è all'interno. Cosa ha fatto Scarpa? Scarpa ha inserito un nuovo layer, cioè un layer diverso da quelli precedenti, che sono poi fondamentalmente tre. Questo è un edificio che è incastonato nel circuito murario della città, viene iniziato nel 1100, poi nel 1400 viene fatta la piazza d'armi, che è questa dove è fatta la foto. Nel 400 anni dopo viene costruita questa ala ad L, che va a rinforzare l'edificio sul fronte dell'Arno, scusate dell'Arno, sul fronte dell'Adige, perché dall'altra parte c'è l'artiglieria austriaca. Quindi, come dire, l'ultimo intervento poi è quello di Forlati degli anni 20-25, e poi quello di Scarpa. Quindi questo edificio per noi è interessante, perché in qualche modo fa mostrare, cioè mostra, quella che è la lettura che ogni epoca ha dato. Poi è anche vero che Scarpa si pone con un giudizio manicheo, per cui c'è tutta una parte che è buona e tutta un'altra parte che è cattiva, tra virgolette, e quindi essendo cattiva viene in qualche modo rimessa in discussione, se non in alcuni casi anche soppressa. Andiamo avanti. Questi sono i dettagli che poi insomma un po' li conoscono tutti, però è anche vero che ogni volta che li guardi ti rendi conto di questo paesaggio di forme che è autonomo rispetto alla storia dell'edificio. Anche questi sono l'intervento scarpiano. Questo è Can Grande visto dall'alto. Questa grande nicchia è forse uno dei grandi capolavori della museografia contemporanea. Viene eliminata un'intera campata dell'ala napoleonica e ridisegnata secondo una modalità che è quella proprio, possiamo dire, scarpiana in sesso stretto, cioè totalmente autoriale. Ed è anche la parte più di qualità. La grande bellezza di questo museo sta in questo passaggio. Se poi si decidessero a togliere le impalcature sarebbe anche l'ora, visto che sono un sacco di mesi che le hanno montate, la gente quando va a vedere a Castelvecchio va lì per vedere questa cosa che è la cosa più importante e ha in mezzo le impalcature a quei teloni. Ma l'Italia è questa qua. Ecco. E qua si vede molto bene, per esempio, quello che non siete riusciti a vedere in gita è quella grande apertura, molto profonda, che dà direttamente sull'Adige. Poi sulla destra si vedono le immagini dell'interno. L'interno è un altro evidentemente un capolavoro. Scarpa è un architetto che rivolge la maggior parte dei suoi interessi e riscuote la maggior parte della sua fama proprio nella progettazione di architetture di interni museali. Ecco, questo spazio è un capolavoro. È un capolavoro che si riesce a vedere senza gente con ormai sempre più raramente. Però ci sono molti libri che pubblicano queste geometrie molto materiche e quindi vi suggerisco, guardate la foto in alto a sinistra, la bellezza, l'armonia che c'è tra la colonna della bifora, lo sviluppo verticale della statua e poi la striscia pavimentale in bianco di Venezia. Questa specie di seghettatura è un qualcosa veramente di grande bellezza. Un altro edificio che a noi un po' ha cambiato la vita, io, guardate, ero studente, è questo gigantesco museo che è stato costruito negli anni Ottanta a Merida. Questa foto è una foto che ci fa vedere un po' tutto il complesso archeologico, ci fa vedere il teatro con una parte di edificio scenico parzialmente ricostruito, una sua porticus di post-scenam e poi a fianco l'anfiteatro romano. Questa continuità tra teatro e anfiteatro è molto interessante, anche abbastanza unica, e poi in fondo si vede in alto a destra lo sviluppo dell'edificio museale, progettato da Raffael Moneo e con una figuratività che è stata talmente potente, talmente glorificata dalle riviste, che è riuscita a riportare il disegno dell'arco all'interno dell'architettura moderna. Le arcate disegnate da Moneo qui dentro, che sono poi le arcate dei grandi edifici termali, sono qualcosa di veramente spettacolare ed elegante, come si vede in questa immagine con l'ingresso al museo. Poi questo edificio è un edificio che si muove anche lui su un palinsesto piuttosto fitto, è una compresenza tra città romana e poi successiva città islamica e successiva città rinascimentale romana. Su questo registro molto complesso da leggere viene costruito l'edificio e il risultato è questo spazio interno di grande enfasi, di grande qualità e bellezza. Diciamo che questo edificio è riuscito a farci scrollare di dosso la modernità vieca, cioè quella che ha aggredito la storia e non permetteva più che questa si muovesse sui tecnigrafi degli architetti. Queste, va bene, sono altre immagini dello spazio dell'edificio di Moneo. Queste sono a sinistra le immagini della cripta, a destra quella della grande navata. E ancora qui vedete anche un po' che attenzione per questo spazio ipogeo che è uno spazio certamente molto emozionante, in parte alla luce, in parte in penombra, è anche un po' uno spazio da brividi, come dire, però è disegnato in maniera così magistrale che ogni volta che lo vediamo ci viene voglia di imparare, di ridisegnare anche noi quei giri di mattoni. E questo è invece un'architettura estremamente controversa che io conosco molto molto bene perché mi sono laureato con Giorgio Grassi che è uno dei due progettisti, il laboratorio progettista è Manolo Portasevi che noi ospiteremo nel giro delle conferenze legate al laboratorio di tesi, mi pare il 21 giugno. Quindi vi ricordo di partecipare alla sua conferenza perché ci racconterà certamente una serie di cose interessanti su questo edificio. Considerate che io l'edificio lo conosco benissimo perché sono stato anche coinvolto nel cosiddetto progetto di legalizzazione e quindi mi sono occupato per conto di un gruppo di progettazione valenziano di elaborare una soluzione museografica per le parti non completate dal progetto che a un certo punto è stato interrotto per ragioni giudiziari. Questo è il volto che ha oggi il teatro ricostruito. È un'operazione molto controversa perché oltre non è possibile pensare di andare. Diciamo che non è neanche un'operazione che può costituire un modello perché non è ripetibile. È un po' come la storia di Attano. Non si possono fare dieci teatri in seguito. Se ne può fare uno anche perché le polemiche e il polverone che ha sollevato ne impedirebbero comunque una replica. L'edificio è un edificio di grande bellezza che ha perso un po' di tridimensionalità rispetto alla sua condizione originaria. Giorgio Grassi non ha voluto ricostruire la Columnazio, non ha voluto rimettere insieme i pezzi che in fondo connotano il frontescena di un edificio romano e quindi ne costruisce in qualche modo la scatola muraria che ne evoca solo la posizione ma rinuncia alla costruzione della Columnazio. Noi poi abbiamo tutta la zona dell'Antiquarium e va bene. Poi in realtà è arrivato il Covid quando l'abbiamo presentato a Valencia al progetto a Exco, il progetto ha riscosso anche notevole interesse, poi però la cosa si è fermata lì. La direttrice che faceva parte del team è andata in pensione quindi non so se questo progetto verrà ripreso e completato. Questo è l'edificio in costruzione e questo è l'edificio costruito con gli arci famosi disegni di Giorgio Grassi. Il castello, il teatro si trova in una posizione molto bella a rigenerare la sua ricostruzione ha rigenerato completamente il centro storico sono partite tutta una serie di attività tali per cui oggi Sagunto il centro storico di Sagunto è una cosa molto frequentata molto piacevole con tutte quelle cose belle che stanno attorno ai grandi monumenti. Considerate che il monumento è in realtà ancora non totalmente legale quindi non ha un numero civico, non ha un allacciamento alla rete elettrica, alla rete idrica però sono 30 anni che ci fanno dentro il festival del teatro romano cioè delle rappresentazioni alla maniera romana di Spagna. Questo è, va bene adesso vado anche un po' veloce perché abbiamo tante cose da far vedere insomma, poi sono tutte cose che qua vi facciamo vedere cinque slide però sostanzialmente sono cose che vi dovete poi in qualche modo andare a vedere, approfondire sul libro, mio libro mio e del professor Basso Architettura per l'archeologia Museografia e allestimento trovate tutti questi edifici trovate tutta la, un po' la vicenda scritta in maniera abbastanza approfondita e queste sono le ultime immagini per far capire anche un po' la dimensione guardate, queste sono due vostre colleghe di dieci anni fa, forse anche dodici erano due studentesse laureande una ricordo che era molto alta questa qui, immaginate che possa essere è stata alta, 1,75-1,80 e questo è il rapporto che esiste con l'edificio scenico di un teatro romano quindi l'operazione è stata un'operazione certamente molto impegnativa molto molto impegnativa va bene, procediamo questi sono altri dettagli del teatro se vi capita di andare in Spagna e se correte sulla Litoranea vi suggerisco di fermarvi e andare a vederlo bene, arriviamo al tema intanto ci sono domande? è tutto chiaro? giusto? sì bene allora, la reversibilità la reversibilità, come vi ho detto prima è un tema in fondo abbastanza tecnologico però, guardate, non è proprio della modernità è stata solo declarata nella modernità in realtà esiste da sempre il Tempio Greco è la massima espressione di reversibilità guardate queste immagini questo è il Tempietto di Atenaniche prima e dopo il restauro e prima e dopo il derestauro il Tempio è stato smontato tre volte e rimontato tre volte a sinistra in alto si vede il Tempio montato e a destra si vede che il Tempio non c'è più perché sono stato smontato i pezzi spostati ecco, questo è per farvi capire che cos'è la reversibilità la reversibilità nel Tempio antico greco è ovviamente una costruzione a secco con alcuni giunti che permettono di calibrare la posa dei singoli elementi della costruzione però fondamentalmente è un edificio costruito a secco e questa è un'altra immagine del Tempio che c'è e del Tempio che non c'è forse questa qui sul fianco di tre quarti è ancora più significativa per quanto riguarda un po' la comprensione di questo aspetto questa è un'immagine molto famosa di Stuart and Rebitt che sono due signori che hanno restituito Atene intorno al 1750 questo è il Partenone dopo il bombardamento del Morosini tutto attorno c'è un pezzo di città con dentro le case degli ufficiali ottomani dentro il Partenone è stata costruita una piccola moschea in modo tale da mantenere quella che era la vocazione religiosa dell'edificio sebbene poi l'edificio è stato fatto saltare in aria perché poi conteneva una polveriera militare e diciamo così dall'unità dell'indipendenza greca nel 1930-1932 comincia un lento percorso di ricostruzione dell'edificio un lento percorso che altro non ha a che fare che con una impressionante anastilosi che altro non è che la ricollocazione a secco dei pezzi che non esistono dei pezzi che in parte sono reperibili attorno al tempio che sono il tempio deflagrato e in parte sono invece stati integrati con una pietra nuova di nuova cavatura guardate questa immagine sotto ecco vedete il primo intervento fatto dai greci nella metà dell'ottocento era un intervento per cui le parti da risarcire erano realizzate in laterizio e quindi un materiale come dire non reversibile tra virgolette perché si basa sull'utilizzo di malte questa pratica a un certo punto viene fermata, viene bloccata e l'edificio viene ricostruito in modo scientifico prima da Nicolaus Balanos che ha anche commesso una serie di errori che poi hanno portato errori ha utilizzato sostanzialmente il ferro come dicevano tutte le carte del restauro però sostanzialmente questo materiale ha poi generato di problemi con la ruggine e quindi poi è stato sostituito è stata fatta un'imponente operazione di restauro e di ricollocazione dei pezzi uniti non più da ferro da putrali di ferro ma da profili in titanio annegati all'interno dei blocchi un'operazione abbastanza nuova che è cominciata negli anni Ottanta e che sta ancora continuando queste sono le due peristasi a confronto a sinistra con la nord e a destra la sud e questo è il tempio ricostruito da Balanos che ha avuto la grande intuizione di voler mostrare da un punto privilegiato cioè la soglia dei propri lei un edificio intero e quindi va a ricostruire la peristasi nord e non la peristasi sud quindi fa un'operazione molto attenta che ha a che fare con la percezione e con l'incedere delle persone in movimento all'interno dell'acropoli e questa è l'immagine del tempio ricostruito da Balanos prima degli interventi di De Restauro degli anni Ottanta quindi questa è un'immagine molto bella degli anni Settanta guardate che meraviglia sempre nel quadro del concetto di reversibilità è interessante andare a vedere questo progetto perché è un progetto che muove a smosso il paradigma è un progetto anzi una realizzazione che ha avuto un grande successo ha avuto un grande successo soprattutto figurativo ma anche metodologico in realtà poi l'edificio di fatto non esiste è poco più che un'installazione diciamo così piena d'aria però il metodo ha funzionato e sta diventando in qualche modo un qualcosa di presente negli interventi attuali anche interventi diciamo distanti 10-15 anni da quello di Carrillo questa è l'area archeologica che è l'area archeologica del castello di San Jorge a Lisbona è un'area quella che normalmente viene definita quattro sassi dove la consistenza archeologica non è certamente paragonabile a quella dei monumenti di Roma o di Villa Adriana però c'è c'è diciamo è una quota di scavo relativamente vicina quindi non richiede un'operazione di riscavo archeologico molto costosa c'è da rimuovere tutte queste tettoie classicamente realizzate per la protezione magari di parti pregiate come come mosaici come pavimentazione come insomma qualcosa che non è mera costruzione e qui Cario fa un'operazione molto intelligente ecco qua si vede in pianta l'area archeologica vedete come le curve di livello a un certo punto si ritraggono dalla parte scavata e qui sopra Cario va a costruire questa specie di fantasma io la chiamo architettura fantasmatica perché di fatto oltre a essere bianca è un'architettura estremamente leggera che non grava praticamente sulle strutture sottostanti ma attraverso l'impianto in profondità di sei pilotii l'edificio è praticamente sospeso a sbalzo come potete vedere qui da questa immagine sull'area archeologica e poi lo vediamo anche dalle immagini costruite vedete che allora il tema era la ricostruzione di due domus islamiche con questo strano simoro che in qualche modo viene poi alla fine risolto dalla qualità del progetto naturalmente non si sapeva quali fossero la quota dei due edifici se non attraverso quest'ultimo discorso scusate che abbiamo fatto prima però il tema qui è la restituzione tipologica cioè in fondo è molto simile all'operazione che viene che è stata fatta a Sagunto cioè Grassi ha estruso le fondazioni del teatro con alcune modifiche e ha tirato su diciamo ha elevato l'edificio scenico senza arrivare a tanto e a tanti costi Cario però fa la stessa cosa con la differenza che mentre Grassi utilizza le tecniche murarie quelle romane quindi calcestruzzo con paramenti di mattoni da una parte dall'altra quindi struttura pesantissima qui dentro quegli spessori bianchi c'è aria dentro quelle diciamo quei quei setti non c'è un costruito pieno ma c'è aria adesso andiamo a vedere come ha realizzato questa cosa queste sono le foto sono foto ormai di quasi 15 anni fa adesso forse sarà un po' un po' diverso sarà meno lindo meno bianco il volume che vediamo davanti e com'è che è stato c'è tutta la parte in corten che serve per la gestione delle quote e che ha a che fare anche con la sistemazione paesaggistica questo è un po' un dettaglio abbastanza noto molto pubblicato in cui si vede anche il sistema di drenaggio della della nuova pavimentazione che porta acqua al di sopra al di sotto del suolo archeologico delle parti chiamiamo così nobili delle parti abitate e questa specie di roba così incasinata altro non è che l'intelaiatura di questo edificio quindi vedete che non sono murature ma è uno scheletro in acciaio poi a un certo punto tutta quella roba lì viene viene tolta rimane l'ossatura centrale e poi su di questa viene diciamo così appoggiata la 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 pelle esterna interna quindi praticamente lo spessore di quelle murature qui se io guardo la struttura reticolare sarà diciamo i profili saranno da 10 per 10 mentre invece le murature sono più o meno da 60 a 70 centimetri e vengono come dire regolate da tutta una quantità d'aria che ne sta all'interno poi l'edificio viene finito in altezza perché lo si vede questa è una quota di camminamento per cui la gente vede l'edificio dall'alto viene riprodotta la trama tipologica e poi viene chiuso con un canniccio da da spiaggia canniccio da come dire da da copertura di 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 chiosco da spiaggia di cabine quindi una cosa veramente effimera questo non è neanche un edificio è un'installazione fondamentalmente da quattro soldi però metodologicamente è diventata una soluzione paradigmatica e questo è poi il dettaglio notturno che è piaciuto tanto all'epoca quando è stato realizzato l'edificio anche perché finalmente un'area archeologica viene aperta anche la sera la struttura indipendente la struttura indipendente è un qualcosa che un po' a che fare con queste idee sull'antico si cerca di toccare il meno possibile la struttura archeologica anche perché la struttura archeologica è una struttura fragile è una struttura che ha subito spogliazioni ha subito interventi trasformazioni ha perduto la sua forza capacità statica ha perduto la sua continuità formale e quindi diciamo si pensa a livello di dottrina che intervenire su questi manufatti comporti una particolare attenzione la prima delle quali è quella di non toccarli e di non coinvolgerli strutturalmente Giorgio Grassi per esempio ha fatto l'esatto contrario a Sagunto stessa cosa ha fatto a Merida Raffaele Maoneo stessa cosa ha fatto Carlo Scarpa a Castelvecchio qua invece si cerca di operare diciamo così facendo lo slalom tra le strutture antiche adesso vediamo i progetti di Guido Canali per la musealizzazione della pilota siamo a Parma e gli interventi si sono sviluppati nell'arco di un ventennio ultimamente alcune parti sono state rimosse dal direttore della pilota che adesso se n'è andato diciamolo pure per fortuna perché ha completamente distrutto un capolavoro della museografia italiana che è il museo progettato da Guido Canali che aveva il suo accesso proprio da questa passerella che aveva la grande bellezza di portarti dentro lo spazio direttamente dentro lo spazio scenico questo è quello che Canali aveva realizzato all'interno dello spazio scenico era una specie di architettura nell'architettura tutto un sistema espositivo autoportante non collaborante con le murature vedete anche in sezione lo si vede autonomo e il piano di calpestio è un piano di calpestio che viaggia a una cosa differente da quella dove viaggiavano le scene e quindi all'interno di questo spazio si crea una specie di architettura nell'architettura quando poi si entra nella manica lunga quella dove c'è la grande prospettiva della pinacoteca che è questa guardate che meraviglia addirittura la struttura indipendente è duplice è doppia da sopra l'edificio viene tenuto assieme da questa intelaiatura di tubi innocenti quindi una specie di roba da cantiere che all'epoca fece scalpore per questa trovata diciamo così di finire restaurare un edificio utilizzando i tubi innocenti cioè i tubi da impalcatura appesi a questa grande struttura reticolare ci stanno vedete i grandi pannelli che si portano dietro i dipinti e poi addirittura un piano rialzato sopra vedete che questa è una struttura indipendente autonoma nuova però che grava in parte sulla muratura preesistente tant'è vero che questa cosa bianca che vedete si appoggia in alcuni punti sulle grandi murature dell'edificio della pilota questa è una prospettiva di grande bellezza che non c'è più è stata distrutta dal direttore e non so se il nuovo direttore avrà l'ardire di riportarla a questo stato perché diciamo praticamente il direttore che adesso è andato agli uffizi addirittura ha praticamente svuotato i magazzini e ha deciso di occupare tutto questo spazio vedete vuoto che c'è a fianco della della dei grandi pannelli per raddoppiare l'esposizione e occultando obliterando completamente questa straordinaria prospettiva vi assicuro era una cosa molto bella muoversi in questo spazio io ho portato gli studenti per tanti anni poi quando è arrivato il nuovo direttore e davanti a me l'ho visto smontare i pezzi di canali era il 22 23 di dicembre del 2018 io ero lì con la professoressa Cattiodoro e a quel momento ho deciso di non andare più di non andare più a fare una visita in un luogo che era stato completamente devastato e snaturato e guardate questa è un'altra mostra sempre di Guido Canali guardate che meraviglia questi pannelli che sono in equilibrio perché sono tenuti semplicemente da dei cavi da dei cavi tesati che si incrociano e e portano in verticale questi pannelli espositivi questa è una soluzione di grande bellezza ecco vedete questa è la struttura indipendente cioè quando l'architetto interviene andando a come dire a interessare a coinvolgere la struttura antica in maniera molto marginale anche questa guardate che meraviglia questa questo pannello così orientato è una soluzione poi vabbè i dipinti sono strepitosi quindi ecco allora è molto facile capire che cosa significa struttura indipendente però poi Canali ne fa ne dà un altro saggio di di grande attenzione per questo modo suo di di lavorare e lo fa con la musealizzazione Santa Maria della Scala a Siena Santa Maria della Scala è un edificio gigantesco è un ospedale un ospedale fondato nell'anno 1000 e che ha lavorato come ospedale per 960 anni è stato chiuso nel 1960 e trasformato in grandissima realtà museale con una è uno dei musei più grandi del mondo con una quantità di superficie disponibile veramente impressionante e all'interno Canali ha realizzato il museo archeologico tra le tante sezioni lui si è occupato di questo il museo si entra nella piazza del Duomo e poi si scende fino a questa quota ipogea vedete il museo si sviluppa attraverso una serie di gallerie e queste gallerie sono tutte quante scavate nella roccia perché sono scavate nella roccia è perché servivano dei nuovi spazi e quindi questi diciamo una volta che il l'ospedale era entrato a pieno regime aveva in qualche modo occupato tutta la dotazione disponibile a un certo punto gli spazi sono stati creati scavandoli all'interno della roccia e poi consolidati dal punto di vista strutturale e guardate questi sono gli spazi quando hanno ripulito queste gallerie da quello che c'era dentro guardate vedete che ci sono delle ossa umane vedete che ci sono dei femori ci sono dei teschi perché poi lì dentro seppellivano anche il cadavere era un ospedale pensate quando arrivavano questi c'erano l'epidemia peste lebra eccetera quindi hanno trovato di tutto hanno trovato un palinsesto di cadavere impressionanti vedete questi sono bacini ok questo era un ossario pazzesco e la cosa interessante è che una volta ripulito tutto l'edificio Canali costruisce questo questo pavimento che si porta tutto si porta intanto porta se stesso porta gli impianti porta il sistema di aria condizionata e di ventilazione interna perché poi quello è uno spazio anche molto umido perché è uno spazio ipogeo scavato nella roda e qua si vede la realizzazione intanto delle pareti di consolidamento e poi di tutta la parte tecnologica dove viaggiano questi tubi che si muovono sotto il piano di calpestio e ogni volta che noi visitiamo questo museo certamente non vediamo questa cosa è completamente occultata e questa è un'operazione di grande di grande qualità di grande intelligenza dal punto di vista costruttivo e anche un po' dal punto di vista diciamo così anche della gestione degli spazi ecco vedete lo stesso lo stesso ambiente la foto a sinistra con gli impianti sotto la foto a destra con la passarella sospesa e poi naturalmente c'è l'allestimento Canali è una star in queste cose qui riesce sempre a stupire per qualità di soluzioni e qui c'è una teca gigantesca lunga 12 metri che forse è una delle più lunghe che io abbia mai visto a parte una che ho fatto io ormai vent'anni fa che è stata costruita con grande dispendio di diciamo di rinforzo strutturale al museo del Ghisallo e anche la mia 12 metri queste sono cose poi vabbè all'interno del mondo dei musei i progettisti poi hanno i loro record c'è quello che realizza l'intero museo senza in telaiatura metallica ma utilizzando solo campane di cristallo come per esempio ho fatto io ai musei vaticani nel 2013 però poi ci sono le teche fate per il per il Noyes Museum che sono strepitose perché hanno sì l'intelaiatura però è molto sottile molto elegante allora forse sono un po' più belle quelle insomma diciamo c'è 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 tutto un mondo che gira attorno a queste soluzioni tecniche tecnologiche che poi alla fine nei musei archeologici sono molto importanti perché poi c'è un problema di gestione del clima all'interno delle teche c'è un problema di gestione appunto anche dell'umidità e quindi il tema della teca quindi del contenitore di preziosi è piuttosto sentito e esiste tutto un mondo che si confronta un po' su questi temi i più bravi di tutti sono a realizzarli sono due ditte una si chiama Goppion ed è di di Trezzano sul Naviglio e l'altra invece è Han che è un'azienda tedesca di Francoforte che poi si avvale di un'altra ditta di di Bressanone che poi realizza in effetti le loro cose quindi anche questo è un mondo di specialisti che sono cresciuti facendo musei lavorando all'interno di questi luoghi dell'antichità e pian piano sono diventati dei come dire degli esperti di questo tipo di di museo questa è un'altra bella vista vedete sono tutte gallerie pogea alla fine si tratta qui in realtà il progetto è un progetto molto semplice sta tutto dentro un pavimento sul quale vengono appoggiate i reperti le opere le opere sono tutte molto simili perché è un museo etrusco con una collezione che in fondo si ripete e poi queste teche molto pregiate ecco vedete questa è la teca di 12 metri che vedete che poi anche per metà appesa una cosa veramente di gran classe considerate che ci sarà una parte nella progettazione nei temi che vi verranno dati al premio piranesi c'è una parte poi molto di dettaglio che è proprio di museografia quella che noi chiamiamo museografia tattica va bene procediamo continuità discontinuità ecco qui ci sono alcune cose che vale la pena osservare con un minimo di attenzione è una questione di atteggiamento e quindi è anche un po' di responsabilità rispetto a quello che poi vai a inserire in un contesto urbano proviamo a vedere questo museo della muraglia araba a Mursia in Spagna realizzato da Mancano Vas Maruri è un edificio molto piccolo che è stato creato nel momento in cui facendo uno scavo urbano si è scoperto il passaggio delle mura antiche della città islamica della città araba in una parte in fondo abbastanza marginale di questa piazza a un certo punto i progettisti fanno una cosa abbastanza inaspettata ecco vedete questa è la situazione nel momento in cui intervengono su questa parte di suolo e su una rovina di un edificio abbastanza recente e si trovano si trovano le mura le mura della città araba viene fuori tutto un dibattito e si decide di 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 fare un progetto capace di valorizzarle tanto diciamoci una cosa qui si vede con grande chiarezza come il moderno non sia stato mai capace di produrre un sistema di connessione con con la città antica e con i monumenti antichi nel momento in cui il moderno pone come paradigma diciamo la diversità rispetto alla storia certamente non non opera nella direzione e nel senso di una capacità invece di gestione di quella distanza di cui parlavo tra ciò che si vede e ciò che non si vede quindi noi non possiamo tanto fare riferimento al moderno inteso come periodo compreso tra gli anni 30 e gli anni 60 70 compresi perché perché quelli sono stati interventi e altri sono anche interventi ancora molto discutibili che magari noi apprezziamo dal punto di vista artistico però probabilmente oggi non si potrebbero più fare andiamo a vedere cosa hanno fatto i nostri amici spagnoli allora questo si vede la sequenza di due edifici religiosi sono due chiese una più piccola una più grande poi a destra si vede la sezione del diciamo dell'edificio nuovo progettato questo edificio si pone in totale discontinuità con quello che la piazza propone vedete qui c'era questa continuità tra campanile chiesa e seconda chiesa chiamiamola così probabilmente la canonica e invece loro si inventano questo edificio che è completamente differente addirittura un fronte in legno con profili anche molto importanti dal punto di vista della ritmica con questa strana luce blu che arriva dall'interno è un edificio che io trovo anche gradevole nella sua composizione diventa un pochino più complicato esprimere un giudizio nel momento in cui si propone e si confronta con un centro storico certamente gli altri interventi su questa piazza non hanno non sono andati nella direzione della ricostituzione della continuità medievale ma diciamo hanno reso praticamente molto episodico l'insieme di questi edifici non so voi cosa ne pensate naturalmente quando noi facciamo vedere questi esempi li facciamo vedere perché sono esempi costruiti essendo esempi costruiti sono alla luce del sole hanno sfidato il confronto con il tempo il confronto con i monumenti qualcuno esprimerà alla fine un giudizio io ho trovato sempre molto belli invece gli interni di questo edificio ecco vedete come si compone tra l'altro viene fuori molto l'edificio quindi va a occultare anche la piccola canonica io non so se è un intervento giusto o sbagliato mi pare mi pare un intervento che se lo guardi diciamo da alcuni punti di vista in alcune prospettive è più interessante in altre ci lascia un po' perplesso perché praticamente questo disegno dove noi vediamo che in sezione sembrano tutti e tre in fondo che si rispettino e invece questo quello di nuova costruzione viene fuori in modo molto violento e lo si vede bene in pianta lo vedete è questo qui ok questa è la prima campanile chiesa grande canonica e poi c'è questo edificio che viene completamente ricostruito e poi c'è questo angolo molto brutale che va a invadere il fronte dell'edificio io non ho tanto capito perché è stata fatta questa cosa tra l'altro loro sono degli amici per cui li conosco bene ci siamo parlati tante volte su questa cosa qui loro sono convinti di aver fatto un'opera d'arte e noi lo prendiamo perché la loro convinzione è tale per cui ce le prendiamo com'è andiamo a vedere com'è l'interno l'interno è molto più interessante naturalmente non si capisce dove siamo sembra di più un interno per uffici o l'interno di una discoteca qualcosa che poi diventa anche molto più bello molto più scenografico nel momento in cui si mostra il suo parincesto ecco questo lo trovo molto piacevole è una cosa molto piccola guardate che si tratta di uno spazio che sarà 25 metri quadri in tutto che si proietta molto bene in altezza con degli effetti di luce anche interessanti e insomma questo è un po' il risultato andiamo a vedere che cosa fanno sempre con dei bagni arabi invece i bagni architektos a base in Spagna qui c'è un intervento che è abbastanza anche qui abbastanza discutibile vedete diciamo siamo in una piccola piazza in un tessuto storico spagnolo che è la confluenza di tre percorsi questa piazza probabilmente era una piazza e quindi uno spazio aperto all'interno di uno scavo è stata è emersa questa questa preesistenza che erano un piccolo impianto termale arabo e gli architetti hanno invaso completamente hanno trasformato il vuoto in un pieno e hanno coperto inglobato diciamo i bagni arabi che sono una cosa piccolina guardate la scala e mettete la confronto con questo spazio per cui stiamo parlando di una cosa molto piccola la cosa più preziosa del progetto è però il modo in cui viene trasmessa la luce esterna fino diciamo alla quota pavimentale del vecchio edificio vedete che l'edificio in esterno non si può guardare è molto brutto fatto molto male molto molto volgare il modo in cui si pone all'interno di questo piccolo spiazzo poi però invece all'interno l'edificio diventa più sensibile il plafone della copertura viene forato secondo un disegno a diciamo così a diverse pezzature e tessiture di lucernario la luce viene catturata portata verso il basso questo è l'estradosso delle volte dell'edificio arabo e questo è quello che succede scendendo poi nell'edificio antico questo è la luce che entra sull'estradosso e questo è invece l'effetto che si ha nell'intradosso l'edificio probabilmente quello quello arabo ne ha ne ha guadagnato abbastanza perché prima era sottoterra aveva una condizione catacombare naturalmente questi gli interventi degli architetti spagnoli sono sempre degli interventi molto decisi molto alla diciamo così all'insegna di una modernità in fondo molto aggressiva poi in alcuni in alcuni dettagli sono anche efficaci perché loro per esempio sanno lavorare anche molto bene con la con la luce soprattutto con la luce atmosferica andiamo a vedere che cosa intendiamo per monumentalizzazione della protezione ci sono mi pare due progetti che vi facciamo vedere due realizzazioni uno è il Columbart Museum di a Colonia in Germania realizzato da Peter Zumthor è un edificio di grandi dimensioni molto grande con che si dispone sopra lo si vede da questa sezione vedete sopra un'area archeologica che ha la quota praticamente della della città l'edificio museale che viene costruito sopra vedete che si sviluppa in un'altezza anche piuttosto considerevole poi ci sono delle parti con dei piani dove ci sono i magazzini ci sono anche dei depositi e è una parte con uffici però sostanzialmente la parte espositiva è questa è questa che si vede diciamo molto chiaramente soprattutto in questa sezione in esterno è un edificio molto importante con una soluzione architettonica a mio modo di vedere molto bella capace un po' di tenere insieme quelle rovine e che vanno poi in fondo a completare e aornare l'edificio contemporaneo che svette in modo anche prepotente però con una una certa qualità e una parte di questa qualità sta nell'aver trattato la muratura esterna in questo modo che permette di avere di portare la luce all'interno dello spazio archeologico con degli effetti certamente non comuni brutta è la passarella con tutto questo questo legno un po' eccessivo molto interessanti sono questi pilotii estremamente sottili guardate che guardate che roba tutto è tenuto insieme poi va bene dalla da quello che è la tolos che 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 espone queste vetrate e e l'edificio poi alla fine è un edificio che ha avuto anche molto successo stato stra-pubblicato con dei dettagli molto molto forti dal punto di vista della comunicazione sembrano un po' quelli di Sagunto che abbiamo visto prima andiamo a vedere adesso un'altra operazione del 1993 questa è un po' gli albori della riscoperta dell'archeologia ci sono all'epoca sempre nel 1993 anche Jean Nouvel a Perigot fece un intervento molto simile a quello del di Studio Milou che sono questi francesi di Parigi con questo Bugon Burial Mounts Museum che è sostanzialmente un museo costruito in un'area paesaggistica molto vasta dove ci sono queste tombe a tumulo vedete qua il museo è in questa posizione poi si riparte un percorso di visita molto ampio con tutta una serie di cose queste sono le tombe a tumulo ce ne sono tre o quattro e poi alcune presenze diciamo così un pochino più a carattere etnico ok e questo è lo spazio interno molto bello ecco l'edificio l'edificio va a inglobare tre preesistenze e lo fa portandone una totalmente all'interno che è questa qui una la tiene dentro il nartece il nartece è questa questa parte qui che si vede che aggetta in esterno che è una specie di cortile che contiene il secondo edificio e il terzo gli sta a fianco vedete questa è vedete naturalmente la parte archeologica molto molto ampia e l'edificio è un edificio importante anche dal punto di vista costruttivo anche dal punto di vista dell'impegno economico e questa è una foto molto bella che ci fa vedere l'edificio diciamo incluso all'interno della grande teca di cristallo l'altro edificio che si confronta invece con questo bello spazio esterno generato semplicemente dal profilo della cornice sostenuta dalla pilastrata e poi questo invece che viene semplicemente restaurato e lasciato in esterno questi sono ancora altri disegni queste sono altre immagini di dettaglio per la verità immagini non bellissime questa è un'immagine che fa vedere un po' la struttura in acciaio che è fatta di piloti molto sottili e poi i vari cambi di quota come vengono gestiti anche dal punto di vista del paesaggio paesaggio e arriviamo quasi verso la fine di questo raccontino poi l'ultima parte la dedichiamo al al disegno allora il paesaggio abbiamo due progetti tutte e due in Spagna uno è la musealizzazione del teatro romano di Clunia fatto dallo studio che si chiama Lab PAP di Bayadolid questo è il territorio questo vedete che c'è l'incavo della presenza del teatro che è stato scavato nel banco di pietra mentre invece la parte dell'edificio scenico viene allestito viene costruito sostanzialmente in esterno una viene scavata in negativo l'altra viene costruita in positivo questo è il progetto di restituzione è un progetto molto diverso da quello di Sagunto perché in Spagna dopo dopo la vicenda di Sagunto si è creato tutto un movimento anti-Sagunto per cui se volevi fare qualcosa che aveva a che fare con un teatro romano lo dovevi fare anti-Sagunto cioè Sagunto era stato stato considerato un eccesso un qualcosa sfuggita di mano altri l'hanno considerato un'opera d'arte altri l'hanno analizzato diciamo in maniera equilibrata considerando pregi benefici e invece aspetti negativi e poi altri invece che sono andati in una direzione che è una direzione non particolarmente volumetrica ma è stata un'operazione quasi sempre di paesaggio di lavoro sul suolo e sulle superfici oltre va bene alle cose concesse dalla carta di Atene scusate e dalla carta di Venezia che sono poi gli anastilosi questo è il risultato del progetto vedete che è in una zona anche molto bella con questa vista estremamente profonda e l'edificio queste foto in realtà sono delle foto che io ho dentro questa presentazione da tanti anni oggi l'edificio è stato ulteriormente sviluppato nella parte del post scenium credo sia stato anche presentato durante una conferenza al Politecnico mi pare a febbraio e quindi è stata fatta mi pare anche una breve mostra sempre al Poli e questo è diciamo il tipo di trattamento che è un tipo di trattamento molto soft con questi dettagli molto spagnoli l'unica cosa che è un po' decisa sono quelle grosse che si vedono in legno però fondamentalmente è un'operazione di ridisegno dei profili del teatro poi ci sono alcune soluzioni anche preziose come questa in cui c'è un accostamento di più materiali differenti in questo palinsesto in questa compresenza di codici e di sovrapposizione di tessiture e queste sono poi altre viste in cui si vede che il balteo è costruito con una muratura anche questa reversibile cioè con gabbioni di acciaio e pietra appoggiati su uno strato di sacrificio in calcestruzzo la parte in roccia è lasciata in evidenza non è coperta e poi la summa cavia è gestita da questa da questa corso semicircolare pavimentato in legno che è molto bello vediamo invece che succede a Cantacò vicino a Barcellona progetto di Tony Ghironese architetto architetto ecco va detto che questo progetto ha avuto un grande successo di critica e anche un grande successo presso gli studenti che ogni tanto lo ripercorrono e lo ripropongono nei loro progetti anche quelli di laurea il contesto non è un contesto di grande bellezza è un'area industriale nei pressi della conurbazione di Barcellona però sopra quest'area si erge un piccolo colle dove è stata scavata una domus una domus romana vedete questa è una foto degli scavi prima dell'intervento di riqualificazione alla fine c'è una presenza naturale con tutta una serie di pini una vegetazione non molto fitta abbastanza rada e poi ci sono questi muri che affiorano dal suolo affiorano con una frequenza non impressionante sono per certi versi quei quattro sassi che abbiamo visto anche su Lisbona però l'operazione che fa Ghironessa è un'operazione piuttosto intensa che poi è questa praticamente viene ripulito l'intera area le parti murarie restano le parti murarie antiche vengono musealizzate un po' ridefinite nelle altezze cioè le murature che sono completamente spezzate interrotte vengono poi unite dove serve rialzate appena appena dove è necessario però fondamentalmente il progetto si basa su un riempimento un'estrusione dei pavimenti e non delle murature che è l'opposto di quello che normalmente viene fatto quando ci si confronta con i cosiddetti quattro sassi normalmente i quattro sassi vengono intesi come qualcosa che va estruso per cui dai quattro sassi si passa agli otto sassi ai dodici sassi ai sedici sassi per riuscire ad avere una quota tale capace di dare un'idea con le ombre che sembra un po' un basso rilievo qui viene fatto l'opposto cioè sono le parti interne alle murature cioè le pavimentazioni che vengono estruse e vengono utilizzate va bene quello è un luogo dove c'è questa pietra che è una pietra molto friabile che è ricca di pirite è una pietra rossa che è una pietra che arruginisce così come arruginisce il tipo di materiale che Ghirones utilizza che poi sono i tondini del calcestruzzo vedete sono le reti sempre del calcestruzzo e con questo tipo di dettaglio questo è molto bello diciamo riesce a realizzare questa operazione che si basa poi fondamentalmente sull'estrusione del pieno rispetto al vuoto di circa 60 centimetri un intervento che non costa niente perché poi viene quello che viene inserito per riempire questo riempimento poi alla fine sostanzialmente sono sassi sono pietrame come vedete in questa in questa foto ecco questo è un intervento alla fine molto poco tettonico molto di suolo molto di superficie io lo considero un intervento molto poetico poi io non amo le cose non troppo definite e diciamo che poi mi portano il problema della ruggine mi portano il problema di un qualcosa che poi col tempo tende a decadere in maniera forse eccessiva però questo è un intervento certamente differente da da quello di altri che abbiamo visto che sono magari interventi più architettonici più pesanti più volumetrici ecco è interessante capire anche qual è il tipo di atteggiamento con cui si può confrontare con con un suolo come quello di Villa Adriana e con una tessitura muraria di rovine anche molto ancora molto presenti nella loro tridimensionalità con un intervento contemporaneo naturalmente io penso che voi in questo momento stiate cercando di immaginarvi come poter gestire questo tema che è poi un tema formale ma è un tema anche molto di come dire di rapporto empatico con la con la rovina e anche con il suo paesaggio circostante questa è una soluzione io la trovo bellissima ma è anche molto pericolosa diciamo come dire in Italia non te la farebbero mai fare perché perché tutta roba arrugginita tutta roba dove se io mi appoggio laggiù dove ci sono questi ferri sporgenti mi faccio un buco in un braccio e poi il giorno dopo c'ho il tetano ecco allora detto questo è un'operazione artistica questa che è un atteggiamento differente da quello che invece è più legato alla tettonicità e alla fruizione diciamo funzionale vera e propria ecco questo è il paesaggio di questo con questa specie di suolo estruso nella sua superficie lì c'è una specie di baldacchino che tende a segnare da una parte evidentemente importante al punto di vista della composizione ma serve soprattutto a dare un punto di vista in elevazione un punto di riferimento anche per il visitatore anche per l'osservatore eccolo qua adesso lo vediamo più nel dettaglio questo è ancora un pezzo vedete le murature sono in parte murature ricomposte e questa è un'altra vista prospettica l'insieme di questo strano intervento quasi di land art e questa è di nuovo l'immagine che abbiamo visto prima e lui è anche simpatico e divertente questa è una bella foto ecco forse è quella in cui si vede un po' meglio tutto quanto lui ha l'abitudine di terminare la presentazione dei suoi progetti facendo vedere i conti ok e alla fine per dirci che il prezzo al metro quadro è di 69 euro che è fantastico perché vabbè a parte che siamo nel 2013 quindi sono passati dieci anni però un intervento che costa 70 euro al metro quadro credetemi è veramente niente certo è vero che anche il valore dei materiali è un valore qui bassissimo e l'intervento effettivamente è un intervento fatto con con diciamo un atteggiamento che tende a essere proprio cheap 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 super cheap però questo è il risultato e in fondo possiamo pensare che con dei materiali un po' meno diciamo così di serie B possa anche essere qualcosa di applicabile anche in situazioni anche di patrimonio italiano naturalmente questo è super reversibile perché alla fine tutto quanto è contenuto dentro queste gabbie di ferro e tutto quanto è tranquillamente asportabile o forse un giorno può essere consolidato e quei sassi diventano un massetto e la parte sopra maggiormente definita probabilmente si snaturerebbe l'idea di Ghironès però forse si riuscirebbe ad avere un compromesso anche con la qualità del manufatto nella sua durata nel tempo benissimo adesso l'ultimo pezzettino a che fare gli ultimi 20 minuti li dedichiamo un po' alle tecniche di rappresentazione voi avrete visto alcuni di voi hanno visto la presentazione che facciamo solitamente quando andiamo in classe e avrete visto anche delle delle soluzioni non ve le ripresento quelle magari ve le ripresentiamo al tutoring di Villa Adriana il giorno 25 di agosto tra l'altro mio compleanno 60 anni e qui vi facciamo vedere un po' più o meno come come ci si confronta con questa cosa perché perché non tutti gli studenti hanno usano la stessa attrezzatura allora diciamo che noi normalmente siamo piuttosto inclusivi e quindi ognuno disegna come sa ognuno disegna come sa e naturalmente con l'obiettivo di essere il più efficace possibile e si va dal disegno a mano libera il disegno manuale in tutte le sue versioni sia quella diciamo così a matita sia quella con la punta a china col pennarello disegno manuale vuol dire che non è un disegno elettronico non è un disegno digitale quindi si disegna a mano libera con qualsiasi tipo di penna qualsiasi tipo di diciamo di supporto di incisione qualsiasi tipo di carta a qualsiasi tipo di colore noi amiamo un po' la tradizione dei pensioner francesi che troviamo molto forte dal punto di vista dell'illustrazione soprattutto nelle tavole a colori poi naturalmente il programma più utilizzato per il bidimensionale è ovviamente AutoCAD quindi disegno vettoriale digitale che è misurabile perché 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 fatto così con viste e funziona molto bene normalmente con viste in proiezione ortogonale poi noi cerchiamo di usare ombre cerchiamo di usare un tipo di trattamento che poi vi faccio vedere che è un trattamento ottocentesco sempre vettoriale ma esercitato con particolari strumenti che ti permettono di trattare il disegno molto bene anche dal punto di vista delle tonalità del grigio poi i disegni normalmente cioè noi dobbiamo fare i conti con un tempo con un tempo limitato allora su 13 giorni di premio si lavora sul progetto 8 giorni e mezzo 8 giorni e mezzo 9 quindi è chiaro che con questi tempi per riuscire a ottenere dei risultati diciamo capaci di penetrare quello che è come dire l'attenzione della commissione è importante costruirsi una strategia in modo tale da disegnare bene in tempi abbastanza abbastanza brevi abbiamo avuto di tutto al premio adesso vi facciamo vedere comunque diciamo le cose più diffuse sono certamente il disegno vettorial sono quelle che vi ho scritto qui c'è il disegno vettoriale al cadde il disegno vettoriale a mano libera perché il disegno a mano libera è un disegno vettoriale i disegni possono essere ovviamente al tratto quindi semplicemente in bianco e nero o in negativo con eventuali campitura retino con ombre poi ci sono i fotoinserimenti che questi sono da comporre in senso artistico ma sono molto efficaci negli ultimi anni sono stati molto utilizzati e permettono di utilizzare diversi diverse fonti la fonte manuale la fonte fotografica la fonte digitale messi insieme vengono fuori delle cose anche di grande qualità poi naturalmente nei gruppi i gruppi sono fatti da 6 8 persone nei gruppi ci sono anche quelli che sono magari dei draghi del modello 3D e anche sono molto bravi per esempio a fare i rendering ecco tutto questo naturalmente fa parte della gestione della tridimensionalizzazione ricordatevi sempre che per disegnare un qualcosa che abbia un senso a Villa Adriana bisogna inserirlo nel verde bisogna inserirlo nei in tutta quella gigantesca presenza di 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 natura e noi ormai da anni sconsigliamo di usare Photoshop durante la progettazione cioè non si progetta con Photoshop si progetta con il vettoriale e Photoshop viene utilizzato per la finitura cioè viene utilizzato per la parte artica quindi la restituzione non per la parte progettuale che ha bisogno di essere una parte misurabile una parte gestibile attraverso quelli che sono i nostri sistemi di elaborazione concettuale che si basano sui numeri sono poche regole guardate che però se osservate tengono insieme un'intera community quindi gli studenti che ci lavorano i tutors che li seguono e poi una commissione che più o meno ha un quadro di modalità che alle quali riesce a dare un valore una votazione ceteris paribus cioè più o meno si sa che tutti possono usare questo genere di strumentazione ok è tutto chiaro adesso vi faccio vedere una carrellata di cose a cui noi facciamo riferimento alcune sono cose eccelse che magari non si riescono a riprodurre al premio però io ve le faccio vedere perché intanto li considero dei disegni molto belli vale la pena sempre farvi vedere per esempio queste sono delle prospettive fatte al tratto dai gli architetti della scuola archeologica tedesca a Pergamo in Turchia questo è una vista d'insieme dell'Adrianeum con la Stoa di Umene il teatro di Umene e vedete qui sulla destra l'altare di Pergamo ecco questi sono in fondo dei disegni che qui sono stati poi fatti con una punta particolare però questi sono disegni manuali questo questi sono disegni manuali questo è il modo come disegnavo io quando ero studente noi lavoravamo in questo modo se vado a rivedere i miei disegni negli anni 80 quindi sto parlando del 84 85 86 87 noi disegnavamo così ok poi magari li finivamo a china però fondamentalmente noi eravamo molto molto bravi a disegnare a mano a mano con la matita e a disegnare a mano libera con lo schizzo ecco quindi naturalmente questo è un è un atteggiamento che se se qualcuno di voi sa usare bene il manuale è certamente molto apprezzato guardate questa questi disegni vedete che sono tutti i vettori vedete questo trattamento questi sono tutti i vettori ok perché sono semplicemente linee che poi vanno a produrre una restituzione che può essere o in formato incisione ok oppure semplicemente disegni poi rifiniti a inchiostro su base a matita guardate che meraviglia questi ecco questo è il modo di lavorare in tonalità di grigio vedete qui non vi ho fatto ancora vedere disegni a colori questo è un rilievo di una parte esistente questo è il Tempio di Bacco attestata della storia di Un Mene Secondo guardate che che meraviglia questo disegno a basso rilievo con le ombre fatte a tratteggio quindi una cosa molto molto semplice immediata vabbè noi disegniamo così adesso il tratteggio che ha computer lo fa fare ad AutoCAD però diciamo così chi lavora con il manuale sa che questo è un plus rispetto a a quello che poi è un risultato di grande qualità che lavora semplicemente sull'intensificazione delle parti in grigio questo è un altro disegno questo è un disegno a china questo sempre ottocentesco sempre dei nostri amici a Pergamo e vedete che anche questo lavora sulle tonalità di grigio tutto semplicemente gestendo il tratteggio questo ancora qui siamo in un disegno in cui si vede la parte archeologica diciamo così in quota la parte archeologica grigio chiara che è una che è che è una parte di sostruzione romana e poi la parte del tempio che è quella con la fondazione nera che è quella diciamo archeologica originale anche qui vedete il modo di gestire la tonalità le tonalità di grigio e questi sono disegni molto belli guardate che per fare un disegno così non ci vuole molto cioè io un disegno così lo faccio in due ore ok ecco quindi considerate che avete a disposizione molte tecniche questo naturalmente è un disegno extra raffinato ve l'ho messo qui semplicemente perché è talmente figo che vale la pena sapere che si disegna anche in questo modo queste invece sono i disegni di Enric Miraglias questi sono disegni totalmente ad AutoCAD Miraglias da una parte poi noi all'epoca nel 98 99 quando abbiamo io ho cominciato a importare AutoCAD all'interno delle delle tesi di laurea noi siamo arrivati a un livello di definizione del chiaroscuro pari ai disegni che avete visto prima di Bergamo di Pergamo adesso ve li faccio vedere vedete come qui le sezioni Miraglias le tratta diciamo con una semplice linea che va a definire tutte le membrature disegno in pianta questi sono due progetti diversi disegno in pianta estremamente complesso però vedete queste sono tutto si riconosce attraverso le pavimentazioni sono le pavimentazioni che hanno poi le tonalità di grigio differenti guardate gli alberi Miraglias li disegna così sono dei cerchi con delle croci all'interno un pallino secondo me è una grafica di grande bellezza di grande qualità io non so se voi conoscete Enric Miraglias anche questo qui è il cimitero di Gualada anche questo è un progetto di grande bellezza questa è una brutta immagine la passiamo via perché sono ingrandite e non ci aiutano ecco Miraglias era un signore che si è costruito anche una font quindi lui utilizzava una grafica tutta sua tutta inventata e vedete come dei disegni semplicemente in AutoCAD quando io dico AutoCAD intendo anche manuali perché il vettoriale digitale e il vettoriale manuale sono la stessa cosa semplicemente è diverso il tipo di diciamo di supporto che è uno di carta l'altro fatto di pixel però dovete considerare che AutoCAD è un programma che dal punto di vista dei modelli matematici dei modelli cibernetici è basato su una riproduzione su una copia delle funzioni cerebrali di chi disegna quindi se io devo dare un segnale un comando su AutoCAD vi dico draw disegna disegnami una linea da qui a là from center to center quindi come dire sono i comandi che diamo noi al cervello quando disegniamo manualmente per cui quando io intendo il vettoriale bidimensionale lo intendo sia manuale che digitale guardate questi sono dei disegni di laurea questa è una laurea fatta nel 2000 ambientata sulla via Appia di una studentessa di Parma che adesso sarà anche una signora sposata con dei figli e vedete che è tutto è un disegno molto bello fatto in tonalità di grigio con le pavimentazioni che danno poi trama texture al disegno lo rendono molto ricco ecco vedete questo poi sono sempre lo stesso progetto molto influenzato da Miralius noi all'epoca guardavamo molto questo architetto questi invece sono dei disegni qui va bene un po' ingrandito troppo ingrandito sono dei disegni che noi abbiamo poi il modo di disegnare in AutoCAD portato a un livello molto molto diciamo così raffinato con il quale abbiamo cominciato con il quale abbiamo cominciato a lavorare sull'archeologia l'archeologia naturalmente avendo quelle forme un po' particolari ovviamente impone un disegno molto attento perché perché non è che andiamo a ridisegnare volumi regolari quindi con AutoCAD siamo riusciti a fare anche questo io penso anche molto bene questo è invece un altro modo di partecipare questo è uno studente che si è vinto il premio Piranesi da solo semplicemente proiettando i propri schizzi il suo quaderno di schizzi quindi elaborando una strategia completamente manuale completamente priva di diciamo di strumenti da disegno a linea rete chiamiamolo così a tecnigrafo e attraverso una serie estremamente come dire convincente di schizzi ha prodotto un taccuino magnifico che ha proiettato alla commissione vabbè qua si vede che era un signore capace di riprodurre il suolo plastico di Villa Adriana il gioco di luci e ombre che le archeologie propongono allo sguardo diciamo così dell'architetto anche più più veloce nel muovere la mano e riprodurre una situazione anche complessa come quella originata dalle rovine vedete qua si capisce che c'è una struttura che fa un salto di scala che si va a inserire all'interno di un di un lago artificiale di un e si va a specchiare su questa su questo su questa vasca nella quale poi ci sono tutta una serie di vedete questa qui la vasca e quella lì ci sono una serie di di zattere e così via ecco e questo signore poi ha raccontato il progetto attraverso le sue annotazioni vedete tutto molto in realtà poi se uno sa argomentare non solo a voce non solo con linguaggio naturale ma anche con un'attenta strategia di piccolissimi disegni manuali può competere anche con chi magari ha dei mezzi più più sostenuti anche semplicemente perché è un gruppo e questo qui lavorava da solo e si è vinto il premio da solo ecco questi disegni invece che non riguardano Villa Adriana ma riguardano l'acropoli di Atene sono diciamo dei disegni molto semplici ma molto efficaci queste si fanno in grande velocità sono sia manuali che che digitali ok quindi si possono fare sia a mano che con AutoCAD e sono estremamente efficaci e anche questi utilizzano le ombre in maniera molto elementare però guardate questa è una sezione strepitosa che ti fa vedere tutto quello che c'è da vedere cioè qui uno capisce le intenzioni del progetto la qualità del progetto la capacità comunicazionale comunicativa del progetto e concludiamo con va bene queste sono invece un po' le nostre passioni questi sono i disegni dei pensioner francesi di Villa Medici di architetti vincitori del Prix de Rome questo si chiama come cavolo si chiama si chiama Giraud Giraud e lavora intorno tra il 1850 e il 1860 ci restituisce la villa esattamente com'è io ogni tanto vado a vedere se riconosco qualche cipresso qualche albero qualcosa c'è ancora altri invece sono di invenzione e sopra vedete la tecnica è quella di far vedere sopra lo stato di fatto che poi guardate è molto molto simile a quello che noi vediamo oggi e sotto c'è il progetto ricostruttivo quindi tutta quella elaborazione mentale che fanno gli architetti diciamo i pensioner francesi di riconoscimento e ridefinizione appunto di quella distanza che esiste tra ciò che si vede che poi è questa parte qua ok e ciò che non si vede che invece è tutta questa elaborazione che è la parte chiamiamola così di invenzione questo è più in dettaglio la stessa vista però trasversale ok siamo nella piazza d'oro di Villa Adriana guardate come questi disegni riprendono in maniera fotografica la la situazione della archeologia poi va bene questo è un disegno d'acquarello molto efficace però non è diciamo impegnativo come quelli che abbiamo visto vettoriali manuali della scuola tedesca questi sono molto più artistici fanno uso nel colore colore ad acquarello anche noi quando disegnavamo per gli esami quando dovevamo poi fare le tavole finali quelle che chiamiamo così la bella utilizzavamo l'acquarello ok poi c'erano quelli molto bravi c'erano quelli un pochino più pasticcioni però in linea ne vassi ma dopo un po' imparavi io mi ricordo di aver fatto anche dei disegni molto preziosi quando facevo gli esami poi a un certo punto mi era partito l'embolo per l'aerografo però fondamentalmente era uno strumento eccessivo i supporti non andavano bene quando si toglievano le gelatine venivano via anche i pezzi di carta insomma un pochino un casinato alla fine l'acquarello era il adesso queste cose si fanno con photoshop però chi vuole lavorare manualmente queste cose le fa e mi pare ecco questi invece scusate non si muoveva più questi invece sono dei normali disegni in autocad questo è un progetto vincitore del primo anno siamo nel 2003 e questo è un autocad molto molto easy fatto di pochi vettori e poi alcune strisciate chiamiamole così di photoshop photoshop anche molto deciso però come vedete alla fine è un disegno molto semplice anche questo può essere fatto diciamo manualmente lavorando con pochi colori con alcuni dettagli di tessitura e poi vedete che lo sfondo è uno sfondo molto diciamo così sintetico ci sono degli sfondi molto più insomma elaborati noi normalmente quando facciamo le tesi di laurea non è il caso del primo piranesi ovviamente utilizziamo questo genere di soluzione naturalistica bene questo sono disegni che si fanno in un giorno ok molto molto semplici ok questo non si vede niente andiamo avanti e poi naturalmente ci sono anche altre formule per esempio c'è una formula che ti permette vedete questo qui è una sono disegni fatti a pantone ok io ve li faccio vedere perché così disegnava Giorgio Grassi così un po' abbiamo disegnato noi quando eravamo studenti è abbastanza difficile questo replicare la premia a meno che uno non non si stampi il disegno manuale o digitale sotto e poi vada a colorare vedete qua si vede tutto il segno del pantone vedete questa qui la punta del pantone da 5 mm 6 mm vedete data con estrema precisione ok i disegni di Giorgio Grassi li faceva un mio amico che è un mio amico un mio amico all'epoca adesso non ci vediamo da tanti anni che si chiama Annunzio Dego ed è molto bello perché in realtà si vede molto la manualità che è una manualità di grande di grande io la chiamo di grande prestigio perché questi poi sono disegni che sono diventati famosissimi sono su tutti libri di architettura per l'archeologia e questo è anche un modo molto semplice per disegnare poi c'è il photoshop che imita il pantone e quindi questa cosa qui si può fare anche semplicemente con diciamo con pochi comandi di photoshop questo ve lo faccio vedere perché è interessante questo è un mio progetto di tanti anni fa di vent'anni fa prima ancora che nascesse il premio Piranesi un progetto del 2003 che ho fatto con Filippo Fantini e con un gruppo di come dire del mio primo gruppo di assistenti siamo a Mozia e il modello 3D un modello 3D molto molto elementare però efficace vedete era un modello come noi lo chiamavamo alla maquette cioè ad imitazione dei modelli fatti in legno perché noi eravamo abituati a fare i modelli in legno adesso i modelli si fanno in cartoncino si fanno con altre cose molto meno costose noi all'epoca eravamo un po' un po' così ma perché perché da Giorgio Grassi si faceva così e vedete che qui c'è un po' di AutoCAD c'è un po' di AutoCAD poi c'è un modello 3D questo era fatto con un programma che adesso non esiste più che si chiamava Lightwave e e poi il tipo di renderizzazione era proprio banale ok sono tre toni di colore del beige marroncino e però si ottenevano dei risultati anche molto belli però è chiaro questa cosa qui è molto schematica non c'è la natura non c'è perché tutto poi stiamo parlando di un modello 3D fatto con un programma che non esiste più e che e che all'epoca diciamo faceva pesare i file parecchio ok però insomma questo è anche un modo molto schematico per dirvi che certe volte bastano dei 3D molto quando si fa un conto è rendering un conto è il 3D questo è diciamo sono degli shot di un 3D praticamente no sono dei rendering però funzionano come uno shot di 3D e questo insomma è una cosa molto elementare però estremamente efficace ok questi sono altri dettagli di queste cose ci stiamo avvicinando alla fine un'altra tecnica che si può usare con una certa disinvoltura sono i fotoinserimenti questo è una questo sono le grandi terme la palestra delle grandi terme all'interno delle quali questi studenti che mi ricordo erano studenti di Roma 3 avevano inserito una serie di diciamo così di superfici rosse molto presenti molto importanti ed erano riusciti in qualche modo a raccontare il progetto in questo modo cioè veramente facendo una piccola operazione in 3D che erano poi queste pannellature rosse incastonate dentro una foto fatta diciamo qualche giorno prima anche queste vedete sono delle sono dei fotomontaggi in cui si vedono vedete questa è una prospettiva che va in una direzione questa è una sezione questa è un'invenzione dell'uliveto questo è l'uliveto che viene ripetuto nella sua come dire composizione lineare ecco anche queste operazioni artistiche sono delle operazioni che hanno avuto anche loro un seguito hanno avuto anche un loro successo sono efficaci perché sono capaci di raccontare qui non c'è niente di vettoriale qui c'è quel piccolo modellino 3D che è una sciocchezza ma tutto il resto è fotomontato ok ecco questo invece credo sia l'ultima immagine un progetto di un gruppo mi pare milanesi ma di tanti anni fa almeno 12 anni fa che realizzano questo intervento sopra il proiettore di Villa Adriana realizzando tutto uno spazio che è nascosto ed è da verso l'altura e invece sul fronte verso le grandi terme spuntano solo queste superfici di corten molto molto piacevoli anche molto ben calate cromaticamente nella nel nel contesto e questa è un'altra operazione che è sopra il disegno vettoriale qui sotto invece la parte totalmente fotocostruita quindi è un fotomontaggio insomma e questo ecco ecco queste invece sono altre un altro modo che abbiamo di rappresentare questo invece è un pochino più un po' una moda forse che hanno ma perché perché sono poi i tutors che in qualche modo influenzano anche il modo di lavorare degli studenti qui siamo sull'agropoli di Atene il progetto è un progetto molto elementare c'è un modello 3D però poi in realtà ci sono tutta una serie di soggetti che sono inseriti diciamo all'interno dell'inquadratura con l'obiettivo di creare un quadro ecco un dipinto con questi con questi temi un po' neoclassici un po' rinascimentali eccetera ecco questo poi alla fine è praticamente un vettoriale e questo invece è un render molto molto semplice molto rude abitato da tutte queste strane presenze che conferiscono un'aria un po' arcaica al luogo e abbiamo finito eccoci qui interrompiamo la cosa eccoci qua ragazzi pronti via e ditemi se ci sono domande sono già le 8 quasi 10 ma insomma fatemi sapere ditemi se ci sono cosine che volete volete sapere volete approfondire sarete anche stanchi però Grazie a tutti.